Non dobbiamo dimenticarci che al di là degli obiettivi personali o del nostro gruppo politico, quello che più conta sono le risposte che saremmo in grado di dare ai cittadini sardi. Sardegna 2020 ha fatto la sua parte alle elezioni regionali, ha preso un consenso che nessuno era stato capace di prevedere e da subito il Presidente Solinas ha chiarito che avrebbe voluto e avrebbe chiesto a Sardegna 2020 di esprimere un proprio componente all'interno del Governo regionale. Sappiamo che nei corsi di questi mesi ci sono state delle posizioni differenziate, non ci siamo fatti trascinare in una polemica perché sono circostanze che si possono verificare, però abbiamo mantenuto fermo un principio, Sardegna 2020 è i suoi candidati, Sardegna 2020 è il suo popolo, cioè quelle persone che l'hanno costruita, che hanno messo amore nel creare un progetto politico. Oggi una persona che era candidata alle elezioni regionali assieme a noi ci rappresenta in seno alla Giunta, speriamo che sia, anzi abbiamo la certezza del fatto che è soltanto il primo tassello del contributo che tutti assieme sapremo dare al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini sardi e al miglioramento del funzionamento della politica regionale.